Ciao, diciamo che questo è un video un filino diverso dai soliti video di colazione a fumetti e boh mi sono alzato questa mattina, non avevo pronto nessun video in realtà, succede pensavo magari di farne uno prima delle 10 così ecco, poi ho aperto il telefono, sono andato sul gruppo dei sub del canale e ho scoperto che è morto Akira Toriyama ora, non sono un tipo particolarmente sensibile su queste cose non mi metto a piangere, non farò post strappalacrime però effettivamente la cosa mi ha preso sotto gamba, cioè non me l'aspettavo di certo e mi fa super strano perché ieri tra l'altro sono andato a letto leggendomi il quarto numero di Dragon Ball Full Color, la saga di Cell ne avevo appena parlato ieri del video che è uscito per le letture della settimana del 3 dicendo quanto Dragon Ball sia uno dei fumetti più importanti e meglio fatti nel suo genere è strano, nel senso non mi aspettavo una cosa del genere così Toriyama era giovane relativamente, aveva 68 anni e boh mi ha veramente preso sotto gamba io non voglio stare qui a fare un video in cui analizzo la vita del maestro semplicemente ci tenevo a dire due parole così perché mi sembrava il caso, è stato veramente per me non ho iniziato a leggere in manga con Dragon Ball sicuramente la prima volta che ho visto Dragon Ball era nella primissima edizione italiana quella che aveva ancora la sigla originale su Junior TV, credo con gli adattamenti non terrificanti di Mediaset ma vabbè, non è importante questo e boh sono veramente veramente stranito stranito perché appunto andando a letto leggendo Toriyama e svegliarsi con Toriyama che non c'è più in realtà è morto il primo marzo sono passati sei giorni ma in Giappone sapete che le notizie non arrivano mai immediate immagino che la notizia sia vera visto che sarà pubblicata sul sito ufficiale di qua sono un po' sconvolto scusatemi dalla cosa e pubblicata direttamente sul sito di Dragon Ball official inglese per cui penso proprio che sia vero è nulla, veramente veramente una botta una botta non mi unirò ovviamente ai post di quelli che dicono che stanno più in genere vabbè, io non sono fatto così però ci credo che magari per qualcuno l'effetto possa essere quello mi ha fatto strano mi ha un po' sommosso però non sono in grado di commuovermi per persone che effettivamente non conosco però devo dire che anche rispetto a, non lo so, Miura che comunque per me non era così importante forse mi ha lasciato un po' peggio, devo dire bella botta, bella botta mi dispiace, ci tenevo però a lasciare un segno di questo momento in modo che rimanga anche sul canale ci sta, comunque è stato un personaggio veramente veramente importante Dragon Ball ha segnato una generazione in Italia perché comunque se non fosse stato per Dragon Ball e per il fatto che non poteva essere ribaltato forse avremmo ancora tutti i manga ribaltati con la lettura alla europea e non alla giapponese che botta io vi saluto, non lo so, con Vegeta che diventa Super Vegeta e fa lo stronzo ricordiamolo così Toriyama è stato uno dei personaggi più divertenti in assoluto ricordiamolo con Rale e non stiamo qua a fare, boh, quelli che piangono dai peccato, peccato ci sarà tempo per discutere del futuro di quello che sarà dei suoi franchise secondo me andranno avanti tranquillamente perché dubito che li interromperanno però chi lo sa non è importante sono veramente dispiaciuto non pensavo non pensavo cioè a parlarne mi fa quasi più effetto però che cosa dobbiamo dire un saluto maestro prima o poi ci arriveremo tutti ciao